guarda io sono costantemente associata anche al cibo ma spesso al cibo e quindi oggi però parliamo di una cosa interessante anzi di due cose una che farà sicuramente piacere alle persone che devono perdere qualche chiletto e infatti parleremo dei cibi che bruciano i grassi anche se so che poi ci sono gli esperti che stanno così con il naso dicono ma non esiste però poi vi diremo quali però c'è un'app con cui adesso parliamo